pescatori di tutta italia bentornati ad un altro tutorial come vedete oggi non sono da solo sono in compagnia del buon Manu Sassi esatto perfetto tra l'altro oggi il suo compleanno che ne fa 35 35 ok perfetto io e Manu ci conosciamo da più di dieci anni abbiamo iniziato un po assieme a fare questo questo lavoro nel 2014 e lui è un personaggio nel mondo della pesca al colpo molto importante assieme ai suoi vari soci del negozio obiettivo pesca di reggio emilio esatto ok Manu è vent'anni che viaggia da una passione poi si è trasformato in lavoro anche perché tu comunque come obiettivo pesca mandate tante persone assolutamente sì è una delle nostre come posso dirvi principali volontà far divertire i nostri amici e abbiamo fatto il mio primo viaggio ai tropici con il buon Manu e Frenzi e tanti altri pescatori siamo divertiti tantissimo bellissimo il viaggio più bello di tutti esatto e ho potuto un attimino un po' capire cosa bisogna portarsi e c'è un mondo dietro che oggi cerchiamo di racchiudere in una ventina di minuti ci proviamo ci proviamo quindi cercheremo di rispondere a un pochino un po' tutte le domande che sono quelle che ci facciamo sempre nei tutorial ovvero cosa devo avere per potermi fare un benedetto viaggio ai tropici oltre i soldi quelli sono fondamentali 3 2 1 partiamo col tutorial allora iniziamo un po' a parlare in generale no in generale che cosa dobbiamo portarci ai tropici quindi quante canne quanti mulinelli quale tipologia di artificiali jig trecce terminali poi dopo andiamo nello specifico a vedere un po' quali sono le nostre proposte o comunque i consigli di Manu che negli anni di attrezzature ne ha ne ha ne ha provate cosa beh buttiamo giù qualcosina canne mulinelli quante canne quante mulinelli essenzialmente allora se uno vuole fare il suo primo viaggio mi entra in negozio un ragazzo mi dice guada Manu io ho deciso di partire cosa devo comprare allora sicuramente si deve comprare una canna da popping barra stick dopo vi spieghiamo le differenze una canna da jigging ok ed eventualmente una canna da jigging un po' più leggera ok quindi una canna più pesante una po' più leggera una da popping e una da stick quindi quattro canne sarebbero quattro canne poi ho tantissimi ragazzi che il loro primo viaggio me lo fanno con una canna da popping e ci pescano anche a stick e viceversa mi fanno una canna da jigging e ci pescano anche magari con dei jig un po' più leggeri ovviamente tutto come in tutte le cose ha un certo costo se si compra qualcosa di buono che costa ci dura nel tempo ovviamente cioè voi comprate ovviamente se comprate un'attrezzatura scadente perché avete paura di spendere perché magari ci vado una volta nella mia vita non si sa mai c'è il rischio comunque di farsi del male come diciamo sempre che gli altri tutorial come nello spinning al tonno se voi prendete cose veramente che valgono zero giocate le canne che perché squali quest'anno abbiamo visti una marea gt un po' meno però le cernie abbiamo fatto cernie sopra i 20 kg e tirarle fuori da 250 metri ragazzi ci si fa uno ci fa la lingua e in più se hai delle attrezzature veramente scadenti non sai mai se riesci a portare in superficie un pesce magari della vita ma poi soprattutto la problematica fondamentale è ti si rompe qualcosa la cosa non c'è il negozio che ti aiutano ok magari il charter con cui sei uscito può prestati la canna prestati eventualmente il mulinello ma non è il massimo ecco diciamo diciamo così va bene quindi quattro canne diciamo così quattro canne oppure se non sono quattro due ma non meno non perché sennò non riusciamo ad andare un po a cercare di lanciare o mettere in acqua perché alle maldive o comunque viaggia i tropici più l'esca sta in acqua più sono le possibilità di poter portare a casa una una cattura quindi poi abbiamo abbiamo parlato di mulinelli adesso poi dovremo entrare nello specifico per quanto riguarda l'esca invece popper stick e gig caratteristiche generali allora a seconda della location ok questo è fondamentale il capire subito dove si va ok questo per darvi l'idea è un popper già bocca larga che tutti riescono a utilizzare perché comunque è 110 grammi di peso ed è un po perché indistintamente ti fa prendere un pesce da 5 kg come ti fa prendere un pesce da 40 kg comunque sono popper pesanti quindi una canna leggera non la ci si può portare esatto e soprattutto la domanda che mi fanno spessissimo è Manu con l'attrezzatura da tonni riesco ad andare al tropico no la canna da tonni può essere riutilizzata come canna da stick ma deve essere una canna da tonni non da gomma ma da stick roba pesante che poi dopo andiamo a vedere ok invece i gig che gig portiamo è un fantastico mondo esatto 180 questo è mangiato hai visto Mancio che è mangiato ragazzi tutto fatto gnam gnam questo in teoria era anche il mio ma sai alle Maldive succedono queste cose che spariscono dalla cassetta di uno e entro nella cassetta dell'amico però a parte bene quindi lunghi corti pesanti esatto a foglia c'è un mondo comunque sia sempre compresi tra i 150 180 grammi e 4 fino ai 400 ok quindi le canne da 400 grammi ce ne sono pochino poche esatto bene ok questo è un po ovviamente dopo c'è anche tutto il discorso di ami assist terminali che facciamo dopo è una piccola anticipazione le trecce mai andare ovviamente sotto un certo libraggio perché ragazzi esplodono che una meraviglia io quello che dico sempre è fate un viaggio che costa x mila euro avete un'attrezzatura che costa x mila euro la treccia è quello che ci conduce al pesce perché andare a spendere poco avete speso già tanti soldi prima non ha senso montare una treccia economica soprattutto sul popping esatto perché viene strasolecitata ok perfetto e cose importanti trecce di un certo p e cioè sotto il p e 6 sul popping andrei un attimo piano però ne parliamo dopo ne parliamo bene non specificamente questo è un po l'escurso generale allora iniziamo ad andare proprio nello specifico c'è manu che è ravana tra le canne adesso parliamo di canne e mulinelli ovviamente vi facciamo vedere quelle che sono un po le le canne che abbiamo utilizzato noi che sono le nostre proposte all'interno dei negozi per quanto riguarda il popping e lo stick perché per il vertical jigging è una cosa abbastanza personale ci sarebbero tantissime magari aziende da proporvi quindi li è degusti boss adesso andiamo proprio sul popping e sullo stick vediamo un po le caratteristiche generali delle canne soprattutto dall'esperienza di mano la mia è proprio relativa cominciamo a far vedere che cosa la canna da popping popping ok una popping parliamo allora fcl labo adesso vediamo se la riusciamo a mettere un po eccola qua questa è la 710 extreme che tu hai utilizzato da me rubandomela esatto una canna abbastanza corta quindi una 7 piedi e 10 molto gnocca molto tosta proprio perché dobbiamo andare a muovere i nostri amici bocca larga vai spiegate realmente io mi sono innamorato e ti ho decisamente rubato la canna durante la vacanza che è appunto la 710 me ne sono innamorato perché per me è una canna che ha una schiena incredibile ma davanti ti risulta relativamente morbida se si sta parlando di una 300 grammi quindi ragazzi relativamente morbida però cosa serve questa schiena morbida e questa schiena morbida una notte questa punta morbida a non far saltare fuori il pop sull'onda nel momento in cui andiamo dalla popperata e non stiamo magari guardando l'esca cosa fondamentale guarda sempre l'esca perché si arriva al nostro amico squalo sempre amico gt si e magari uno è anche finito dentro ma queste sono tutte cose bellissime che accadono solo io non è il mangio spoiler non è il mangio è una canna che uno che vuole investire una certa cifra sa che è la canna definitiva c'è tutta la porti in giro per chi fa viaggi tropici solitamente se ne fa uno e poi nel corso della propria vita due o tre se ne fa fai l'acquisto una volta e se è ovvio che una canna del genere portata magari da noi a toni in adriatico ce la fai per carità la vita però è molto dura magari discorso mangianze porto san giorgio lanciamo un csp 220 però ci spacchiamo si discorso che abbiamo fatto prima è ovvio che bisogna muovere questi popper a bocca larga che fanno tanto attritto nell'acqua però è anche vero che se uno si compra una sola canna può andare a muovere anche i pappaveroni da 22 centimetri assolutamente con facilità è assolutamente ritorniamo al discorso di prima vado via con una canna che canna mi prendo mi posso prendere la 710 oppure qui andiamo sulle stiche invece questa è una canna un pochettino più commerciale soprattutto utilizzabile da noi anche in adriatico perché io comunque la utilizzo sempre quando devo lanciare i 180 i due eventi questa è la 78 16 di CB1 una canna sempre comunque di valore assolutamente di valore che a differenza dell'altra è un po' più parabolica ok abbiamo la schiena un filo più bassa diciamo è più tonda come canna ok non è che non lancia i popper però li lanci però fai più fatica a muoverli nel discorso della popperata quando tu dai diciamo l'azione di gercata deve fare la bolla con la 710 che abbiamo presentato prima fa il tubo dalla madonna esatto e soprattutto fa rumore quindi attrae i nostri pesci con la 78 facciamo un po' più fatica dobbiamo durare un po' più fatica però tutto sommato se uno dice mi voglio fare una canna e la uso anche in adriatico ci faccio il primo viaggio non so se mi piace se non piace anche perché dovete considerare che con una canna come la 710 iniziate a popperare la mattina cos'era alle 8 e mezza 9 finite la sera alle 6 esatto cioè arrivate a casa che siete cresciro cioè è una canna comunque che vi leva un po' di fatica perché se dovete farvi una giornata intera con la 78 rispetto a una 710 ti distrugge, muori, crepi male sì bene perfetto ovviamente a queste canne dobbiamo andare ad affiancarci dei mulinelli ovviamente vi faremo adesso vedere quelli che sono i mulinelli che usa mano ma non benestante quindi usa solo gli stella però comunque ci sono anche altri chiamano gli attrezzi che costano un pochino un po' meno che vi diremo e con i quali sicuramente potete farvi il solito viaggio diciamo che caratteristiche un po' generiche per andare a fare del jigging partiamo da un assoluto devono esserci i pg cioè il recuperi corto non lungo recupero sotto il 5 esatto quindi andiamo da un twin power 10.000 con bobina 14 perché ci vanno almeno 300 metri Manu cos'ha qua? ha uno stella 10.000 esatto con la bobina del 14 questo perché? perché oltre al fondo che dovete fare nel mulinello dovete metterci almeno 300 metri di un PE4 PE6 anche questa cosa qua andiamo dopo a spiegarvela per bene 300 metri sia nel popping 300 metri almeno nel jigging ok? caratteristiche generali ovviamente dei mulinelli da popping e da jigging allora caratteristica fondamentale il mulinello deve essere affidabile perché come ci siamo detti prima se si rompe là non c'è nessuno che te lo cambia esatto qui ho un 18.000 vabbè leggermente customizzato che non guasta mai cosa ho messo sul mio 18.000 la bobina del non so se si vede del 20.000 per un semplice fatto vedete perché ho messo la bobina del 20.000 se io mi trovo la corrente diciamo che mi viene verso la barca e sto popperando intanto è vero faccio poca fatica ma se il pesce mi attacca e viene verso di me io devo recuperare molto più rapidamente quindi già il 18.000 è un hg quindi mi recupera velocemente e se gli metto la bobina del 20.000 che è più laga recupera ancora più velocemente ok ovviamente non vi dico comprate un mulinario 18.000 e metteteci una bobina del 20.000 cioè queste sono proprio passatemi per te che lo fai da tanti anni hai capito l'andasto di quello che vuoi durante il tuo viaggio e ti sei fatto l'attrezzatura esatto proprio per te stesso abbiamo mandato via tantissimi clienti tantissimi amici con dei saragosa 18.000 funziona benissimo problemi zero meno non è ritornato neanche un indietro quindi funziona benissimo e abbiamo mandato via tantissimi amici con il saragosa 20.000 io uguale tu esatto tu alle Maldive saragosa 20.000 non danno nessun tipo di problemi ovvio che il piacere di usare uno stella piuttosto che un saragosa questo è innegabile però ragazzi i conti in tasca ve li fate voi quindi ci potrebbe anche essere che uno va via con lo Sferos della Shimano assolutamente sì Sferos 20.000 Sferos 18.000 della serie provo mi piace vengo a casa li vendo mi compro e adesso stiamo parlando tutto di Shimano ci va benissimo anche i Dai dai ragazzi non fate conto cioè esatto io personalmente uso stella ma perché tanti anni che uso stella il Saltiga funziona benissimo se uno vuole proprio avere un mulinello economico economico il VG Black fa una taglia a 10.000 che per il Vertical va molto bene e la bobina di ricamio prendendo la 14.000 non costa un'esagerazione può essere interessante noi stiamo dando ripeto delle infrenature generali secondo le esperienze sue poi dopo ovviamente ognuno di voi deve prendere portare a casa e cercare di vestirsi cucirsi il proprio vestito addosso queste sono cose proprio di infrenature generali di una pesca di cui in pochi parlano e siamo qui a posto per darvi qualche informazione in più passando invece al Vertical abbiamo detto quindi mulinelli un pochettino un po' più piccoli con dei recuperi molto più corti molto più lenti molto più lenti perdonami e anche perché negli abissi noi non sappiamo che cosa andiamo a trovare assolutamente la bobina deve essere comunque un po' più capiente perché è capitato tante volte anche a noi squali a nastro hanno rotto una marea e ogni giorno pesci pappati esatto noi abbiamo dato addirittura 400-500 metri di filo io personalmente anche perché ho tagliato diverse volte tra wow squali coralli coralli corallo è l'amico di noi negozianti speriamo sempre che voi incagliate in tanti coralli così tornate a comprare sia da me che da Manu comunque a parte quello infarinatura generale l'abbiamo data sì essenzialmente quando uno parte che voglia comprare degli stella che voglia comprare dei mulinelli più economici la cosa importante è che sul popping barra stick non mi state mai sotto un 18.000 come taglia stessa cosa discorso pg quindi discorso vertical un 10.000 ma con la bobina del 14.000 e allo stesso tempo mulinello 20.000 va benissimo ovvio che muovere un 20.000 tutto il giorno il mancio ve lo può dire io sia maschione abbastanza fisicato potente mezzo culturista esatto si fa fatica molta fatica e quindi magari con un 10.000 si fa meno fatica è più leggero ovvio che le performance che ha un 20.000 su un pesce vedi cernione a 300 metri 250 metri è un conto un 10.000 250 metri non ci peschiamo no esatto perché quando incominci a vedere il fondo della bobina che è successo il jig deve ancora arrivare giù ti viene da chiudere e non pescare va bene perfetto adesso passiamo a parlare proprio nello specifico di trecce e terminali vai allora andiamo a parlare adesso nello specifico di trecce e terminali ovviamente parliamo di Varivas perché oltre a essere degli utilizzatori siamo anche dei venditori di questo marchio anche perché è sinonimo di qualità affidabilità prestazioni Varivas fa una marea di prodotti di trecce e anche diversi terminali che possiamo andare noi proprio ad utilizzare in questa pesca specifica poi dopo anche qua ovviamente possiamo farvi vedere un pacchetto un parco macchine per tutte le tasche assolutamente ovviamente per Manu che ci è andato tanti anni lui prende il top del top vi farà vedere questo è il gtsmp che lo trovate su cui non ce l'abbiamo da farvelo vedere perché c'è la mano sul sul mulinello però ovviamente possiamo andare anche a far vedere in scaletta quelli che sono delle trecce su cui si può contare all'inizio tu mi ricordo che hai ripartito con questo qua che è il casting six casting six che ha una particolarità che tanto l'abbiamo già fatto vedere anche per lo spinning al tono ma lo ridiciamo durante il ciclo di produzione viene inserita una pasta che è proprio il six all'interno proprio quando vengono intrecciati gli otto capi che praticamente non fa surriscaldare la treccia quando parte il pescione che alle Maldive capita molto spesso il guida filo ovviamente c'è un surriscaldamento del filo che va a modificare che cosa trazione e torsione e lo sfregamento e quindi il filo un po' cede questo qua prerogativa di questo qua è proprio quello di andare a pescioni nasce per andare a pescare i pescioni non succedono queste cose qua non succedono neanche ovviamente negli altri però ci sono fili che costano 200 euro 300 euro fili invece magari come quello che utilizziamo e hai utilizzato te ho utilizzato io e che utilizziamo anche a spinning al tonno è il casting pie la cosa bella tra parentesi di essere negoziante è la possibilità di provare i vari fili e di poterli poi andare a consigliare io vi posso dire che su una canna quello è bellissimo bellissimo nuovo su una canna avevo montato il casting pie apposta per provarlo non perché io non mi fida del mancio però il mancio è una certezza però nel momento in cui lo vado a consigliare a un cliente voglio essere sicuro al 100% che faccia quello che è ed effettivamente anche se è un trecciato economico rispetto agli altri non economicissimo ma rispetto agli altri più economico si è comportato benissimo allora diciamo che quello che mi hai detto prima sul popping abbiamo un PE8 che è un 112 120 libri dipende dal modello esatto se si parla esclusivamente di Maldive abbiamo un PE8 se si parla di Oman o Andamane si può stare tranquillamente anche su un PE10 quindi 130 libri ancora più grosso il problema delle Maldive problema per modo di dire è che noi abbiamo comunque sempre la necessità di lanciare lontano e capita spesse volte di essere controvento quindi l'attreccio abbiamo preso 28 nodi per 10 giorni la cosa fondamentale è quella di avere secondo me un trecciato valido ma che ti faccia anche lanciare quindi per quanto riguarda le Maldive sicuramente nella canna da popping monterei un PE8 un PE8 perfetto nella canna da stick monterei un PE6 che è questo qua fondamentalmente dopo con Varivas ve l'ho sempre detto qua sotto c'è questa etichettina vi dice che vi state montando ovviamente oltre sulla scatola che vi da tutte le informazioni la particolarità di tutti i fili Varivas rispetto a case concorrenti è che a parità di libraggio sono un 10% più sottili quindi andiamo a fare poi il gioco di Manu che ti dice dobbiamo lanciare lontano ma avere un prodotto che tenga anche perché andando a lanciare dei missiloni del genere che pesano almeno 110 grammi il filo per una settimana viene stra stressato e non è mai successo che abbiamo stuccato esatto piccolo consiglio da amico se posso giornata estremamente intensa in top water quindi lanciamo per otto ore prendiamo un sacco di pesci vi piacerebbe magari prendiamo un sacco di pesci fondamentale quando torniamo a casa due metri tre metri di filo lo togliamo e rifacciamo il nostro finale il nostro finale che facciamo assolutamente con che dopo questo lo facciamo vedere con il terminale allora anche qua c'è da distinguere il popping dalla stick no dalla stick sì perché ok abbiamo ovviamente i nostri due terminali che sono piccolini 180 libre e il 250 questo perché Manu allora essenzialmente il nostro popper mettegli il finale che vuoi comunque si muoverà ok e soprattutto il popper è un'esca estremamente di reazione quindi il pesce in una bolla d'acqua che fa non sappia mai se attacca o dietro o davanti e metti caso con i suoi bei dentini che è al tropico tutti hanno i denti può toccarti eventualmente il filo e con un 250 libre tutto sommato non è male tanto è vero che in determinati spot soprattutto in Madagascar e in Oman fanno un'apprellatura cioè vanno a raddoppiare il filo negli ultimi 10-15 cm io non l'ho mai fatto sinceramente c'hanno i dentoni però siccome sul popper comunque abbiamo un'esca di reazione io preferisco utilizzare 250 libri se invece dobbiamo andare a muovere come dicevamo prima i 220 che poi sono le esche che vi presenteremo dopo andiamo con un 180 libre non andiamo sotto perché come dice Manu ha tutti i denti esatto dal primo all'ultimo perfetto ovviamente per quanto riguarda jigging non possiamo andare a usare dei terminali da 250 perché sennò ci vedono da un chilometro e mezzo a parte quello qua ovviamente abbiamo anche due libraggi differenti che sono nel caso se abbiamo una bobina grossa come il 20.000 il classico Avani jigging 10x10 questo è 20 anni che lo fanno ed è 20 anni che la gente lo utilizza PE6 quindi 85 libre PE5 anche può andare bene se dobbiamo utilizzarlo su dei mulinelli grossi tipo un Saragosa 20.000 io avevo montato un PE5 oppure se andiamo magari sui 10.000 con bobina 14 come abbiamo detto possiamo utilizzare il nuovo Variva 8 ed è un PE4 ed è un 61 libre che al carico ha 27 27 kg oh questo è un nuovo filo che costa la metà dell'altro ma vale tantissimo assolutamente comunque cioè ragazzi anche qua non andiamo a lesinare sulla qualità perché ripeto là in fondo non si sa mai cosa si può trovare tra l'altro dopo quando monteranno il video probabilmente andiamo a dare un paio di immagini di Manu che ne ha la marea un paio di immagini mie di questi cernioni grandi come questo bancone dove stiamo registrando presi a 250 metri quindi ovviamente abbiamo bisogno anche di una treccia di qualità che non si impregni d'acqua e che quindi sia il repellente che è una delle caratteristiche principali proprio di i vari o sta da vent'anni terminali da 100 esatto essenzialmente terminale 100 libre o 130 libre essenzialmente il 100 libre lo vado a montare sul 10.000 invece sul 20.000 vado a montare il 130 libre questa differenza la faccio essenzialmente per intanto una cosa psicologica potremmo montare dappertutto il 130 libre però se peschiamo in poca acqua secondo me ci vedono un po' di più i pesci in poca acqua per me è fino agli 80 metri dobbiamo utilizzare anche gigi un po' più piccoli assolutamente utilizziamo magari non usiamo i 200 grammi magari usiamo i 150 i 130 esatto roba un po' più piccolina esatto a differenza se vado a pescare in 200 metri d'acqua 150 metri d'acqua monto tranquillamente il 130 libre un po' più piccolina a lavorare alle accompagnate Prozent